Il 4 novembre ricorre l'anniversario della firma dell'armistizio che sancì la fine della prima guerra mondiale. L'armistizio venne firmato a Padova presso Villa Giusti alla Mandria. Le cerimonie commemorative, come ogni anno, si svolgono in varie zone della città, organizzate dal comune di Padova e dal comando Forze Operative Nord, in collaborazione con la prefettura, la provincia e l'università. E così, dopo l'alza bandiera e gli onori ai caduti nel giardino di Villa Giusti, la cerimonia militare Interforze si è svolta sull'Iston davanti al municipio. Questi uomini e queste donne però sanno bene che a essi spetta anche l'onere di alimentare e mantenere vivo quel patrimonio di valori che i nostri predecessori ci hanno lasciato. Dopo aver passato in rassegna i reparti schierati e l'alza bandiera e reso omaggio ai caduti, ecco l'emozione della fanfara dei bersaglieri in congedo. Dal prefetto invece la consegna di una medaglia d'argento al valore civile e quattro attestati di pubblica benemerenza ad altrettanti cittadini che si sono resi protagonisti di azioni positive.